Il giorno dopo la notizia della richiesta di arresto della procura di Ascoli nei confronti di Salvatore Parolisi, accusato dell'omicidio volontario della moglie Melania Rea, è un susseguirsi incalzante di voci, annunci e comunicati da parte di inquirenti, investigatori e legali di entrambe le parti coinvolte nella vicenda. La procura di Ascoli ha aperto anche un fascicolo sulla fuga di notizie avvenuta ieri. Gli inquirenti sono sconcertati in quanto temono che lo stesso Parolisi possa commettere atti autolesionistici, ma sulla richiesta di arresto non sarebbe pesato il pericolo di inquinamento prove da parte del caporal maggiore, quanto l'accumularsi di tutta una serie di indizi. E al di là delle testimonianze e dei riscontri scientifici sui tabulati telefonici, i nuovi punti fermi in questa inchiesta sarebbero arrivati dai risultati dell'esame otoptico del professore Adriano Tagliabracci sul cadavere della donna, depositati in procura mercoledì scorso. Il brutale omicidio sarebbe avvenuto in un arco di tempo ristretto, compreso fra poco dopo le 14 e le 15.30, e il luogo accertato del delitto sarebbe proprio Ripe di Civitella, luogo del rinvenimento del cadavere di Melania lo scorso 20 aprile. Ad ogni modo la vittima sarebbe morta per anemia emorragica acuta due ore dopo l'ultimo pasto, un tempo che si può restringere a un'ora, considerati gli effetti della caffeina, perché la donna avrebbe bevuto il caffè secondo un esame otoptico. I colpi con cui è stata uccisa la donna sarebbero stati inferti con armi diverse, un coltello e un altro oggetto contundente. Per quanto riguarda i colpi inflitti post-mortem, forse sarebbe stato usato un punteruolo. I colpi sono collocati diverso tempo dopo il decesso, addirittura al ridosso del giorno, il 20 aprile, in cui il cadavere è stato ritrovato. L'assassino avrebbe tentato di scannarla. L'omicida l'avrebbe aggredita da dietro cercando con un coltello di colpirla la gola, ma il tentativo di fuga della donna l'avrebbe costretto ad accanirsi su di lei quando Melania, caduta durante la fuga, era a terra supina. Le coltellate poi le avrebbero raggiunte al capo, al collo e al tronco.